Sono venuta qui a godere di un evento che sempre di più sta diventando evento di grande portata e grande visione rispetto al quale ringraziamo anche Giovanni Davenia che ci ha voluti coinvolgere. Rappresenta una rete di 21 cooperative sociali, di imprese sociali che operano sul territorio di Salerno in un'ottica di prossimità e anche di sviluppo territoriale. La nostra organizzazione aggrega più di 600 soci e dipendenti e siamo sui territori a cercare di fare trasformazione. Ci occupiamo di welfare e rispetto al welfare siamo presenti in tutti i servizi a fianco dei cittadini. Altrettanto facciamo con le pubbliche amministrazioni. Uno dei nostri compiti è intercettare risorse anche da un punto di vista europeo anziché nazionale da consegnare sui territori per costruire nuove opportunità sia di migliore qualità di vita per i cittadini della nostra provincia ma anche per dare nuova e buona occupazione ai tanti giovani che anche oggi qui vediamo presenti.